Da sabato 22 giugno riprenderanno la rotta le vie del mare. Oltre Salerno, la costa cilentana e la costiera amalfitana, quest'estate sarà possibile raggiungere le località turistiche e i luoghi più suggestivi delle isole eolie. Le linee attive saranno 4, la linea 1 Salerno Costa del Cilento sarà attiva il sabato e la domenica e collegherà i porti di Agropoli, Acciaroli, Casalvelino, San Marco di Castellabate, Palinuro, Pisciotta e Camerota con Salerno. La linea 2 parte da Salerno alle ore 8, dal lunedì al venerdì e arriverà ai porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. A ritorno parte dal porto di Positano alle 17.20 e arriva a Salerno alle 20.40, mentre la linea 3A parte da Sapri dal martedì al giovedì e arriva ai porti di Camerota, Pisciotta, Casalvelino, Agropoli, Napoli e Capri. La linea 3B invece parte da Sapri il lunedì e il venerdì e arriva ai porti di Palinuro, Acciaroli, San Marco di Castellabate, Agropoli, Napoli e Capri. Un servizio di mobilità importante che consentirà dunque di collegare il Cilento con le principali mete turistiche del Salernitano e Napoletano. Lo scorso anno, grazie al metro del mare, si registrarono in campagna numerose presenze. Per il Cilento in particolare fu la città di Agropoli a raggiungere il numero più alto di visitatori, seguito dal porto di San Marco di Castellabate e quello di Casalvelino.